Sì, è arrivato la prima volta in Italia nel 99, quando è stato pubblicato perché non ho votato il libro. Sì, è stato pubblicato in Italia nel 99, poi è stato ripubblicato con il nome di una strega di New York. Mi hanno chiesto un sacco di soldi e molte persone sono venute in questi seminari e poi sono andate. E poi sono arrivata io e siamo andati a cena a pranzo. E lei ha detto che le persone non possono affrontare ciò che l'Astra è imparato e noi dobbiamo trovare un altro modo. Perché le persone che sono seri hanno potuto sentire questo. E io ho detto, fine, lo organizzano. Allora, la cosa è che appunto le ho detto che i suoi seminari erano troppo cari, che l'agente non se lo poteva permettere e che c'era bisogno che si sentissero le cose che lei mi ha dato a dire, però le persone che magari avevano bisogno di sentirselo dire e non potevano permetterlo, quindi bisognava fare dei seminari che costasse Romero. She's a terrible organizer. Go ahead, translate. They all know. Not like you're telling them something that they don't know. She's an artist. She's not an organizer. Ok, non sono brava che mi sa le cose, mi stava bene, lo sapete. However, despite all of her frailty and mine, però, nonostante il fatto che non si fosse molto brava nell'organizzazione, quindi le mie debolezze e le sue, abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato. And now, 16 years later, e adesso dopo 16 anni, con molti altri insegnanti e altre tradizioni, e anche altre persone che non sono, diciamo, del fulcro, del centro, così, però che possono portare altri insegnamenti importanti per la tradizione. e adesso c'è un movimento. And there are teachers e ci sono insegnanti e ci sono iniziati from many years ago who are in other traditions but who are still part of the body. però fanno sempre parte di questo corpo centrale. One of whom is now that 11 years after initiation has decided because of infinite patience is now iniziato da 11 anni e con un'immensa pazienza eccetera ha deciso di she decided to she is on the road to becoming a priestess ha deciso di di dare una sacerdotessa soon very soon molto presto when she at least expects it quando meno se lo aspetta and she has begun a study group and there will be a circle coming out of the study group ok e ha iniziato un gruppo di studio e c'è un cerchio che uscirà da questo gruppo di studio Amalia Amalia ciao I live in America ma la mia anima vive in Italia in Italia and the the night that I was initiated which was a very long time ago la notte in cui io sono iniziata che è tanto più importante I found myself making a promise mi sono ritrovata a fare una promessa that made no sense to me che a quel tempo non aveva senso per me that I would help I would do whatever I was asked to help restore the old religion here che le è stato chiesto di aiutare a reintegrare ristabilire la vecchia religione qua what is the old religion? cos'è la vecchia religione? it's not what we're doing now non è quello che stiamo facendo adesso and we couldn't do what we've done five hundred, six hundred years ago e non potremmo rifare quello che è stato fatto cinquecento, seicento anni fa prima delle persecuzioni perché viviamo delle vite molto diverse we're utterly modern siamo decisamente moderni but we have the same practices però abbiamo le stesse pratiche un po' diverse e non parliamo delle chakras ad esempio i nostri tenati non parliamo delle chakras ad esempio i nostri tenati non parliamo delle chakras unless you were a Hindu a meno che non fosse Hindu but we have the same calendar però abbiamo lo stesso calendario we have the same teacher abbiamo lo stesso insegnante we have the Earth abbiamo la Terra we have the Moon abbiamo la Luna we have the Sun abbiamo il Sole we have the great rhythms abbiamo i grandi ritmi and the holidays that we keep that bring us back into harmony with those great holidays e le festività che abbiamo che continuiamo a celebrare e che ci mantengono in armonia con questi ritmi e ogni mese abbiamo la Luna specialmente per le donne ma anche per gli uomini che ci chiama regolarmente con i suoi ritmi e stiamo cominciando a riscoprirla e stiamo cominciando a reimparare le lezioni che abbiamo dimenticato le pratiche ci aiutano a reimparare queste lezioni non è complicato non è complicato non è complicato non è complicato non si può rendere molto elaborato e molto drammatico e molto drammatico o può essere veramente semplice ma what I've come to understand after many years is that quello che ho capito dopo tanti anni that discipline is necessary è necessario è necessario la disciplina it's true in anything it's true in any art e vero in qualunque cosa in qualunque arte in qualunque ambito in the second book I talked about this spiritual path as the jazz of religion and il secondo libro l'art della magia ha parlato di questo percorso spirituale come il jazz della magia a lot of improvisation a lot of spontaneity c'è un sacco di improvvisazione a lot of spontaneità a lot of spontaneità personal improvisation e interpretazione personale personal expression e espressione personale it's a personal path è un percorso personale but it doesn't work unless you work it if you work it it'll work but it won't work unless you work ok però non funziona se non lo fate funzionare funzionerà se lo fate funzionare that requires some self-discipline e requiere autodisciplina continuity continuità consistency consistency perseveranza costanza 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 community e comunità è molto difficile per me lasciare il luogo dove sento di avere una comunità I mean, I have a community in Australia I have a community in America una comunità in Australia una comunità in America una comunità qua però for me this is the community that holds my heart però la comunità che tiene il suo cuore è questa I am a foreigner e sono una straniera qua la cultura italiana non è la mia cultura e anche il comportamento il temperamento non è mio the peculiarities mystify me le cose, le caratteristiche, le cose un po' caratteristiche mi sconcertano un attimino but the land speaks to me però la terra mi parla and the mystery that resides in the land reveals itself to me every time I ask at you e i misteri che mi siedono in questa terra si rivelano a me ogni volta che lo chiedo so we are more a tradition of the graal than the one noi siamo più una tradizione del graal che non della barchetta we are more tradition of receiving than projecting siamo più una tradizione che riceve piuttosto che proietta our work is about refining the vessel il nostro lavoro è più sul finire completare diciamo il contenitore e di imparare le pratiche che ci aprono per ricevere la saggezza è un sentiero mistico e siccome è molto femminile può essere anche regolato dalle maree however the earth we're not just ruled by the moon we're ruled by the earth però la terra è importante non siamo solo controllati dall'uno ma anche dalla terra e la terra è il nostro insegnante e quello che abbiamo in comune con i nostri insegnanti il calendario dei cambiamenti che avvengono sulla terra e le pratiche che ci permettono di vedere e sentire there is a huge movement and this is amazing you're also in Turin and in Venice and in Rome and in Florence and in Palermo and this is happening all over the world ok sta parlando di venti di tante città italiane cioè succede tutto questo a Torino, a Venezia, a Palermo, a Firenze, Roma, eccetera ma anche in tutto il mondo I think it happened because the earth is calling up io penso che sia succedendo perché la terra ci sta chiamando